Ciao Camel, come lo stai? Che per caso ti serve un condizionatore nuovo? Ho ancora la garanzia eh? No, che Natale? Ci ha detto Super Mario che se volemmo la pace dobbiamo spegnere il condizionatore. No, non era un briaco quando ha detto te lo giuro, sembrava lucido. Bravo, Super Mario, è il meglio delle migliori, il genio, sì. Quello che ha fatto alla moltiplicazione dei Bani e dei Mattei, proprio lui, sì. Quello che si trasforma in un raso missile con il circuito di pillevalvole, è proprio lui, sì. Eh, ma comunque non è colpa sua eh? No, in Italia vuoi essere pure il premio Nobel per l'intelligenza, ma appena entri a Montecitorio il primo giorno ti sei di mezzo al cosento intellettivo, sì. E se no non si spiega perché ci stanno tutti questi politici imbecilli concentrati tutti in Italia, mannaccia le pescette, no? In Italia ci sta la fuga degli cervelli, a Montecitorio ci stanno i cervelli in fuga, sì. Sì, è un genio Super Mario, eh? Sì, prima ha prorogato il bonus condizionatori. Gli italiani se li sono comprati, poi ha detto che se la scendono la guerra non finisce. Mi sembra, mi madre quando si ingazzava, mi diceva, se mi dici la verità, ti giuro che non ti faccio niente. Io gliela dicevo la verità, ma lei mi colcava le botte, mannaccia le pescette. Io comunque ci tengo la pace, eh, Camel? Infatti, molle visse le servo crude. Sì, poi se accenno il forno, mi viene il senso di colpa e non ci dormo tutta la notte. La sera, come molle, eh? Se mettiamo davanti la televisione, che cosa vediamo, Camel? Un cazzo! Stiamo lì e se guardiamo la televisione spenda tutta la sera. Devi finire subito sta guerra, eh? Comunque, in Italia, la televisione spenda, è molto più interessante di quando è ascesa, eh? Io spendo tutto, anche il frigorifero e il congelatore. Voglio far finire anche la guerra fredda. Per Super Mario non c'è stata una via di mezzo. Già ce l'aveva detto, eh? O ti fai il vaccino o muori. O ascendi il condizionatore o la guerra. Tra poco ci dirà o paghi il parcheggio o ti rigo la macchina. Ma pure da ragazzino era così, eh? Quando giocava, o lo facevi segnare o si portava via il ballone. Che poi, tra un momento di benzina, luce, gas e inflazione alle stelle? Ma che caso ce l'hai i soldi che fa scendere il condizionatore, oh? A dire la verità, io non ce l'avevo manco i soldi per comprarmelo il condizionatore. Sono loro che col bonus me l'hanno fatto comprà. E mo se la scendo, ce dava pure i sensi di corba. Super Mario sembra il serbente nel paradiso terrestre. Prima ti dai il bonus mela, poi te la mangi e succede l'era di Dio. Mica si rendono conto che pure per noi non ci sta più una via di mezzo. O fanno qualcosa o non si mangia più. Però, stanno aumentando le spese sull'armamenti. Magari invece se ti mangiasse un piatto di pasta se mangiamo le bomba all'uranio impoverito e i sarti in aria con la polvere da sparo, no? È un genio. Ha d'orto pure le ascise mobili. Che sono le ascise mobili, Camel? È una supercazzola. Sì, perché spariscono per un mese e poi ritornano nel serbatorio degli italiani. Ma te devo lasciare, Camel? Mi è venuta fame. Sì, mi vado a mangiare una mela. Sì, perché una mela al giorno d'ogli le ascise di torno. Speriamo che per colpa di sta mela non scoppia la guerra mondiale.